Laura Tagliaferri ha pubblicato qualcosa in potere al popolo, Laura Tagliaferri su Facebook. Laura Tagliaferri 19 luglio 2016 alle ore 22.04 Gli agenti di scorta sopravvissuti Un film indelebile di quel giorno sul palco di Via D'Amelio sono saliti gli agenti di scorta, quelli sopravvissuti alle stragi del 23 maggio e del 19 luglio 92. Dopo la morte di Falcone andammo da Borsellino e gli proponemmo di scortarlo ha raccontato Giuseppe San Marco ex capo scorta di Falcone, lui piangendo, ci disse di lasciare stare perché dopo Falcone sarebbe toccato a lui. Ma quando un sistema ci disse di fare come credevamo. Solo che rientrae in servizio il lunedì 20 luglio 1992. Domenica, il giorno della strage, dovevi stare attento a dove mettevi i piedi, per i resti umani. Giuseppe Costanza era nella macchina di Falcone e della moglie Francesca Morvillo quel 23 maggio. Il rischio era grosso, ha ricordato, ma vedevo quest'uomo che si impegnava realmente, che ha dato la sua vita e non solo. Giovanni Falcone, faceva la vita di un carcerato, rispettava la regola della protezione, stava a casa, in ufficio o altrove a svolgere un'attività. E nemmeno io me la sentii di mollare. Chi invece è miracolosamente sopravvissuto alla strage di Via D'Amelio e Antonio Vullo, abbiamo messo la nostra vita nelle mani dello Stato, ma il nostro cuore andava a Paolo, ha detto, credevamo che sarebbe riuscito a liberarci da questo male che attanaglia la nostra città, ma, purtroppo da 24 anni sentiamo dire dallo Stato, sconfiggiamo la mafia. Non hanno mai dato un senso a questa frase, e invece ha concluso è importante che ci diano un segno e una verità. Abbiamo bisogno di sapere cosa è successo. Antonella Catalano, nipote di Agostino Catalano ha letto uno scritto in onore delle vittime di Via D'Amelio, delle altre vittime di mafia, dell'incidente ferroviario accaduto in Puglia e del terrorismo, dove invita ogni adulto ad essere cosciente della responsabilità di educare e crescere i propri figli ad essere persone libere. Intervenuto anche Pippo Giordano che ha invitato e spronato i concittadini palermitani a partecipare e far sentire la propria presenza in manifestazioni come queste. Il fratello di Claudio Traina, Luciano, dal palco ha voluto innanzitutto ringraziare tutte le persone presenti che ogni anno giungono da tutta Italia e addirittura da oltreoceano per far sentire il proprio appoggio e sostegno ai familiari delle vittime di mafia e a chi dopo oltre 24 anni ancora non ha avuto giustizia. Traina ha invitato tutti i presenti a gridare i nomi di chi 24 anni fa. In questa via perse la vita, dobbiamo gridare tutti assieme, in modo che sentano fino a Roma che da 24 anni fa orecchio da mercante, questo grido di dolore. Noi oggi stiamo piangendo i nostri morti ma abbiamo molti colleghi che vanno in servizio senza auto specializzate, ha ricordato Luigi Lombardo, segretario nazionale del SIAP. Dobbiamo dare sicurezza a chi sta raccogliendo questa eredità altrimenti ci incontreremo fra vent'anni in un'altra via a piangere altri morti. Salvatore Borsellino prima del minuto di silenzio. Saremo il vento che vuole cambiare le cose, appena prima del minuto di silenzio che ricorda l'esplosione della bomba in via D'Amelio. Il 19 luglio 92 è stato Dario, uno dei bambini della casa di Paolo Voluta un anno fa da Salvatore Borsellino, lì dove era la casa e la farmacia di famiglia, a scandire i nomi di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta Agostino Catalano e Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Eddie Walter Cosina e Claudio Traina. Poco prima delle 16.58 Salvatore Borsellino è salito sul palco di fronte al pubblico presente nella via. Noi non siamo qui per piangere, ha affermato, anche se hanno smembrato il corpo di Paolo Borsellino Mio fratello è vivo insieme ad Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo ed Eddie. Li hanno uccisi ma così facendo li hanno resi invincibili, un pezzo di ciascuno di loro è dentro di noi. Poi ha parlato del PM Nino Di Matteo, sta subendo il trattamento riservato a chi combatte per la giustizia e la verità. Ma saremo noi il vento che vuole cambiare le cose. Non aspetteremo che il vento cambi da solo.